C'è dell'incredibile, Clizia va dal tabaccaio per comprare le sigarette ma non gliele danno perché pensano che lei abbia 17 anni. No raga fa troppo ridere, ho pure il testimone dovevo comprare l'AIDS per Paolo, non avevo il documento, mi hanno chiesto il documento e non me l'hanno venduta, mi hanno dato la tua età, ci ho sette anni a questo punto, adesso vedremo se riusciamo a comprarle, non lo so, vedremo, al prossimo tabacchi vi saprò dire, al prossimo tabacchi vediamo come andrà. Scambiata per una 17enne senza documenti, alla fine va in un altro tabaccaio e riesce ad acquistarle, ma davvero Clizia dimostra 17 anni?